Zaini in spalla, è ora di muoversi. Non abbiamo altra scelta se non quere di vincere. Questo è il tuo campione. Ehi, restate con me, sono la Jumpmaster. Sono la Jumpmaster, restate con me. Questa è una buona zona di atterraggio. In discesa, tenete giuro. Non mi toglie il scosso. Andiamo laggiù. Roger. Eh, non c'è niente, mi spiace. Sto subendo danni. Pure. Non mi ha già visto il G, non ho visto. Sto subendo danni. Sto subendo danni. E sta subendo danni. Picchialo picchialo. Siamo già nell'anello. Problema in me. Nemico abbattuto. Che schifo, non c'è un cazzo questo? Devo ricaricare i miei scudi. E' un bel ugu. Che cazzo va? Non c'è un... Non c'è un cazzo, c'è... C'è un nuovo leader uccisioni. Un nuovo leader uccisioni. Fatti attenzione. Un nemico proprio qui. Oh, c'è un mortier. Ah, non c'è un mortier. Un bel lavoro. Qui c'è un R-99. Ah, viss... Non c'è nient'altro? No. No. Flettere va bene. Qui c'è un R-99. Invece questo ci abbiamo fatto un cazzo. Ancensione la chiusura. Moletce di insieme a volerlo. Bel vantaggio. Ma non quello... Controlliamo di là. Grazie. Roger. grazie qui c'è una capsula armi capsula assistenza in arrivo capsula assistenza in arrivo ci sono rifornimenti extra asprofittatemi nemico laggiù nemico? capito qui c'è una capsula assistenza la mia ultimate è pronta chi vuole vedere una bella piatta di fuoco contatto con bersaglio controlliamo quest'area stabilendo un contatto con il nemico io sto io sto ma c'è un contatto con il nemico ma c'è un contatto con il nemico oh c'è un contatto con il nemico oh c'è un contatto con il nemico le mie abilità sono bloccate quello era l'ultimo bel lavoro scudo evo qui qui c'è un kit fenice ricarica scudo in corso controlliamo di là potrebbe esserci qualcosa di buono ricevuto forte e chiaro ma l'elemento è morto dove si è? dove si è? ma c'è un contatto con il nemico rimane metà delle squadre staniamoli potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte ci stanno sparando un'altra squadra ci sta attaccando ho capito corsa nel vuoto ricarico non c'è un'altra squadra i rischi non c'è unischen nemico individuato sto stabilendo contatto col nemico non può non vediamo il lo stesso non c'è un contatto non c'è un scudo non c'è un contatto non c'è un contatto non c'è un contatto ripetere devo ricaricare il rischio non c'è non c'è un contatto Oh Ho 12. No, qua. Eh aspetta, ma io sono qua, cazzo. Ma questo va avanti da solo. Eh, vabbè, dai. Venga. Il culo, no? Niente. Il culo è lì, deve uccisione. Ah, non lo vado. Eh, l'ho visto, ma che faccio? Oh, andiamo da questa parte. L'amico proprio qui. Arrivo. Ricevuto, forte e chiaro. Capito il bombardamento. Versaglio individuato. Qui c'è un triple take. Qui c'è un'ottica. Distanza ravvicinata. Ah, era un coso. L'anello non è lontano. 30 secondi. La mia ultimate è pronta. Chi vuole vedere una bella pioggia di fuoco? C'è un nemico laggiù. Vivo e vegeto. Nemico individuo. Esploriamo da questa parte. Ecco lì. Ci ha buttato il sfirlo. 10 secondi. L'anello è proprio lì davanti. Mamma mia. Questa è uno che fa tanti kill, mi sa. Eccoli. Adesso. Abbattuto un bersaglio. Stella arc lanciata. Attenzione. Noi. I'VE Noni noni, noni, mai. Ah. Ah. Ah... Noni noni. solo altre due squadre round 3 inizio tutta la piazza sto ricaricando gli scudi faccio una pausa devo darmi una sistemata sto 40 tengo da qui dovremmo andare lì sopra ah ma io ho le impunite ma no ecco perchè faccio male con la pistola roger replicatore in arrivo guardate replicatore in arrivo mamma mia sto stabilendo un contatto con il nemico ma perchè sono qua loro non capisco mi stabilrebbe un caricatore maggiorato comunque eh c'è una c'è una porta chiusa potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte no bersaglio individuato rischio andiamo da quella parte andiamo da questa parte andiamo da questa parte un minuto l'anello è abbastanza vicino nemico laggiù nemico proprio qui l'anello è abbastanza vicino non capisco non capisco l'anello è abbastanza vicino non capisco non capisco l'anello è abbastanza vicino il letto è doppio spazio non c'è più in presso non capisco l'anello è in presso ma dove andiamo? andiamo laggiù andiamo laggiù roger 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 potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte potrebbe esserci qualcosa di buono granata non subendo danni io non subito ragazzo andiamo ricaricare i fiscali nemico laggiù nemico individuato non importa eccolo nemico laggiù non deve scendere lui poi tanto eccolo eccolo nemico individuato bersaglio avvistato ma pian piano sta scendendo di quando c'è ma pian piano sta scendendo di quando c'è ma non ho capito cosa sta sperando questo attenzione anello di movimento siamo già dentro siamo già dentro non si nemico individuato ecco sto creando un tunnel ma che culo è non 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 se non Siamo colpita! Contatto col nemico. Sto ricaricando gli scusi. Nemico individuato. Esploriamo da questa parte. Non è un problema. Che c***o che stai sopra. Ma che c***o? Non è mai vado così veloce, ma? Ma tal, ci sono. Ci arrivo, ma che c***o? Ancora lì, eh, questo. Dai, su. Sto stabilendo un contatto con il nemico. Ancora via? Fossi in voi, cercherei un riparo. La mia ultima è per te. All'inizio. Dai, che palle. Ma che c***o è? Ma questa è, questa è notta, questa è notta. Oh, vabbè. Oh, presa! Vai, vai! Sparagli, sparagli! Sì! Sì, c***o, sono 6, 3, 6. Sti c***o. 8, 3, 8. Ah, ma voi. E che c***o è? Buonasera. Grazie.